Gli indirizzi di studi con la nuova riforma assumeranno una denominazione diversa. Dagli attuali quattro indirizzi che abbiamo preso il nostro istituto ne avremo quest'anno cinque perché l'indirizzo di scienze umane che sostituisce l'indirizzo dell'ex socio psicopedagogico si trasformerà in due indirizzi, il liceo delle scienze umane e il liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale. C'è una riduzione di poche ore, perlomeno il primo biennio, quindi questa è la novità, non so se da leggere in positivo, di abbattimento di ore, però per la collocazione dell'istituto la cosa va bene perché gli studenti hanno delle grosse difficoltà per raggiungere l'istituto. Quindi questo per quanto riguarda il liceo delle scienze umane. Gli altri indirizzi, il liceo artistico che attualmente è sempre presso il nostro istituto e l'indirizzo di rilievo e catalogazione si trasformerà in arti figurative e anche il liceo artistico avrà un abbattimento di ore, passeranno dalle attuali 40 ore settimanali a 34 ed rimane l'unico istituto che ha un numero di ore così elevato, perlomeno a livello di liceo. L'altro liceo, il liceo ex scientifico tecnologico, si trasformerà in liceo delle scienze applicate e c'è una possibilità per l'anno prossimo di poter chiedere, visto che appunto rientra nel nore del liceo scientifico, anche una sezione di liceo scientifico, quindi potremmo chiederlo non quest'anno ma l'anno prossimo. E poi c'è il liceo linguistico che resta sostanzialmente lo stesso, con lo studio delle tre lingue e credo di aver detti tutti gli indirizzi che ci saranno. Praticamente come polo liceale per Teggiano, per la città di Teggiano, è una grossa opportunità per gli studenti di Teggiano in quanto rappresenta quasi la totalità degli indirizzi liceali esistenti nella riforma. Mancherebbe soltanto il liceo classico che è a sala e non sappiamo se con il piano di razionalizzazione tra qualche anno potrebbe venire anche l'indirizzo liceo classico a Teggiano.